nome alessandro leonardo di dove sei avellino san benedetto del tronto marche età ventiquattro anni ventisei anni segno zodiacale bilancia ariete gioco da tavola preferito risico coloni di catan film preferito il gladiatore arrival libro preferito harry potter la saga il signore degli anelli probabilmente ultimo regalo che hai fatto a qualcuno c'è una storia dietro che molti rideranno un giondolo pandora una bottiglia di gin da quanto giochi a travian dieci anni dieci anni circa offender defender o spiander offender decisamente decisamente offender tribù preferita teotoni romani truppa preferita mazza combattente cavaliere di cesare la tua alleanza exiles e danters h h tre parole per descrivere la tua alleanza sdregolatezza precisione e divertimento unità amicizia e divertimento perché no la persona che vorresti con te per organizzare una difesa massiccia sicuramente rosario rossi sicuramente stefano gateral il ricordo più dolce di travian quando abbiamo vinto il primo server quando abbiamo conquistato la mera in polonia al nemico nel primo server h h la nabbata più grande su travian una falangiata di un main rientro mandato in troop save su noasi sbagliando a calcolare il negativo sul mio amico mister cartoon e schiantando tutto il main pre artefatto non staccare la tripla in conquista e schiantare tutto sul main di un alleato il momento più più divertente su travian ce ne sono diversi il più divertente quando abbiamo schiantato su cinque milioni di difese su un'immissione è stato tragicomico probabilmente vedere la vittoria nello scorso server 5 qualcuno ti regala un elefante non puoi venderlo non puoi darlo via che cosa ci fai con l'elefante sicuramente un video su instagram con me sopra l'elefante in stile comandante lo lo affitto saluta i tuoi fan ciao amici multi ciao ragazzi non credo di averne ma ciao ragazzi spero che questa intervista con web post ufficio mh vi sia piaciuta e spero di potervene offrire molte altre se anche voi volete partecipare guardate nella descrizione del video e compilate il form per iscrivervi ci vediamo la prossima volta ciao ciao